Chanel Totti e il fidanzato si sono recati di recente a Monte Carlo, questa magnifica città della Francia. Vi ricordo che Monte Carlo è conosciuta in più perché è la patria del gioco d'azzardo, del gioco, va bene? Ma non credo che la fidanzata, cioè Chanel Totti e l'amato fidanzato si sono recati in loco per il gioco d'azzardo, per il gioco in generale, ma per apprezzare e godere al meglio di una città fantastica, formidabile e magnifica come Monte Carlo in Francia, va bene? Sa di fatto, ripeto, che la coppia ha deciso di recarsi in loco e non sono mancati i cosiddetti hater, l'unità tassiera, i quali avrebbero chiesto, ma hai solo 16 anni di età, ma non vai a scuola? Tuttavia faccio presente che sarebbe stato utilizzato un yacht extra-russo per recarsi a Monte Carlo, ovviamente. Ovviamente questo video non vuole rendere la previsi di Chanel Totti né di il fidanzato di Chanel, ma solo informare eventuali persone, visto che considera che ormai Chanel è un personaggio pubblico, a tutti gli effetti, in quanto figlia di Ilari Blasi, Francesco Totti. Iscrivetevi al canale Narrato Italiano e commentate. Una buona giornata.